Mr. Cristofari, non la partita del secolo ma le condizioni meteo non erano delle migliori? Sì, oltre alle condizioni meteo che sembrava veramente una giornata di pieno inverno, avevamo tante defezioni, due squalificati, cinque infortunati, due cambi per infortunio durante la gara. Veramente abbiamo fatto di necessità virtù, grandissima partita di sacrificio, il capistrello ci ha surclassato, ci ha messo lì alle corde, noi siamo stati bravi a tenere botta e oggi non potevamo fare di più. Una partita che poco toglie comunque è un campionato di spessore per entrambi. Sì, noi diciamo che a inizio stagione avevamo programmi diversi, volevamo fare un campionato un pochettino più ambizioso, poi a dicembre abbiamo un pochettino rivisto i piani, abbiamo fatto degli acquisti diversi rispetto a quello che era l'idea iniziale, abbiamo fatto una seconda parte di stagione importante, siamo contenti. Il capistrello secondo me se non avesse avuto quella moria di squalifiche avrebbe potuto giocarsi la chance playoff fino alla fine. Ne manca una, obiettivo terzo posto per voi? Sì, noi visto i risultati se dovessimo fare bottino pieno domenica c'è Ovidiana-Pontevomano, quindi se Pontevomano non dovesse vincere a Sulmona potrebbe significare terzo posto che sarebbe un risultato importante in virtù del fatto che alla fine del giorno d'andata eravamo sesto in classifica, lontani da Giulianova e Angolana che ci precedeva di tanti punti e quindi ci proveremo fino alla fine. Andrea Capodacqua, giornata da Treggenda. Mamma mia, freddissimo, stamattina c'era neve, pensavamo di non giocare, poi alla fine insomma il tempo si è rimesso un po' e abbiamo onorato ancora una volta questa maglia con una prestazione sontuosa, addetta anche del loro mister, ci è mancato il gol. Abbiamo creato non so quante occasioni, il portiere loro è stato il migliore in campo, abbiamo giocato come il nostro mister Gianluca Giordani vuole, insomma, possesso palla, inserimenti, conclusioni, ci abbiamo provato fino all'ultimo. Purtroppo oggi la palla non è voluta entrare, sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta per una splendida stagione, una splendida stagione, merito soprattutto dei nostri ragazzi, bravi, bravi ancora, siamo orgogliosi di loro e adesso andiamo avanti, facciamo insomma di necessità virtù di questa ennesima prestazione che ci aiuta a crescere, andiamo a Pescara domenica prossima a giocarcela come sempre e sicuramente diremo sempre la nostra ogni partita. Proiettiamoci sulla prossima stagione, si ripartirà da Gianluca Giordani? Sì, ma io spero proprio di sì, mi auguro proprio di sì, queste poi sono cose che decideranno sia il mister che la società, penso e spero che non ci siano problemi perché abbiamo fatto con Gianluca 100 punti in due anni e non è poco, non è poco. Abbiamo valorizzato dei giocatori che ci chiedono categorie superiori, come è anche nella filosofia della società, insomma far giocare giovani, potenziare tutto il settore giovanile, Gianluca è sempre uno che è attento a queste cose e spero che l'anno prossimo partiremo con lui. Per chiudere un voto alla stagione, un voto secco al capito. Io do dieci e lode, do dieci e lode perché lavorare con i giovani, lavorare sempre bene, lavorare sempre sul pezzo non è semplice, non è semplice anno per anno insomma, ogni anno ha le sue difficoltà, però ripeto sono due anni che dalla società, a noi dello staff, al mister e poi ai giocatori stessi tiriamo sempre qualcosa di importante.